Ben ritrovati amici del Nord Ovest, amici del Piemonte, su Rete 7. Un cordiale saluto da Giuseppe De Vitis. Ancora tempo anticiclonico, ancora parlo a livello generale in Italia, ovviamente sul Nord Ovest le temperature saranno un po' più basse, però sul resto d'Italia guardate temperature abbastanza miti per il periodo, ma siamo, lo abbiamo detto, quasi ad una svolta. Intanto, ma ve lo dico tra un attimo, la giornata di mercoledì vedrà la presenza di nebbia al mattino in dissolvimento parziale, soprattutto a nord del Po, zone alpine e prealpine, cielo sereno, tanto sole, un po' più a sud del Po, maggior nuvolosità invece. Abbiamo detto però siamo quasi ad una svolta perché nel weekend, a partire dalla giornata di giovedì e poi ancora di più tra venerdì, sabato e domenica e anche probabilmente per l'inizio della nuova settimana avremo la prima irruzioncina di aria fredda della stagione, prima quindi un po' più invernale, per il momento invece temperature che non faranno registrare cambiamenti significativi. E tutto che amici vi lascio in compagnia dei nostri programmi, arrivederci.